Quanta gente non è coerente con quello che dice? Quante volte si indirizza una cosa e poi non fanno niente? Si presentano in una maniera ma poi scopre che sono tutto il contrario. Tenono una capacità a contare bugie che fanno questi bugiardi o massimi l'ipocrisia. Ma per fortuna tu non sia così. Grazie a Dio questa gente tu non diene niente a valere. Ma state accorti e ogni giorno guardate buon attorno, difendete, falla che la lingua e che male, ma questi vivere stanno lontani, non ne stai a sentire, non ti fai sporcare, chi ti sorprende ti potesse ne cagnare. E ovvero, pur tu non sei perfetto, ma tieni la coerenza e la sincerità, capo una brava persona sui primi qualità. Buongiorno e buona giornata.